Un'altra delle attività che sono ripartite con l'inizio della fase 2 è quella del restauro e della conservazione dei beni artistici e culturali. È dunque ripreso il lavoro di valutazione delle condizioni delle chiese del centro storico lucchese, in particolare quella di San Michele, già oggetto di un'indagine conservativa per quanto riguarda la facciata eseguita nel 2018. L'attenzione dei restauratori si è adesso concentrata sulle pareti laterali esterne e sul campanile. Un lavoro che ha portato alla luce una situazione abbastanza preoccupante sia per la conservazione del monumento sia soprattutto per l'incolumità delle persone, vero obiettivo primario di questo genere di indagine. Esattamente, infatti il nostro intervento specificatamente al punto principale ha come obiettivo quello di togliere queste criticità, cioè le parti che ha una revisione quindi diretta, un'osservazione diretta, sono in imminente stato di caduta e quindi con un intervento manuale che non può essere fatto in altra maniera, ovviamente non certo con un drone o con altri mezzi del genere. Quindi arrivando manualmente togliamo quello che noi valutiamo e vediamo come evidente pericolo. Questo ovviamente toglie il pericolo imminente però è chiaro che il degrado nel tempo continua. La situazione generale purtroppo non è buona, varia da punto a punto però ovviamente diversi decenni di mancati restauri e soprattutto di mancata revisione hanno portato a una condizione, a uno stato conservativo che purtroppo non definirei buono. L'indagine, supervisionata dalla soprintendenza, è stata commissionata dalla parrocchia del centro storico che ha voluto in questo modo verificare la sicurezza sia delle chiese che delle zone limitrofe. Nel caso di San Michele poi la messa in sicurezza riveste un'importanza strategica nell'ottica di un'ipotesi di utilizzo della piazza per aumentare il suolo pubblico a disposizione delle attività commerciali.